Alla lontana California mando un cordiale saluto a tutti voi partecipanti al convegno Ferruccio Parri all'Aula Magna dell'Università Bocconi. Con voi condivido il mio ricordo della luminosa figura di Ferruccio Parri. Lo conobbi a Milano, io giovane corriere per il CLN Alta Italia. Vi spiego come accadde. Fra giovani partigiani le motivazioni erano moltissime e varie. Per me la guerra era da principio un'interminabile sciagura, cominciando per me nel maggio del 40 con l'invasione tedesca del mio paese nativo, l'Olanda, e la morte in combattimento di mio fratello maggiore che si chiamava in olandese Martin e in italiano Martino, un nome che io assunzi fra l'altro nell'esistenza. Come stato notato dagli storici, alla fine del 44 la resistenza sofferse gravi perdite. Fra l'altro a Milano molti corrieri del CLN Alta Italia cadono nelle mani dell'oppressore, fra questi in novembre il compianto Jacopo Dentici, ucciso a Mauthausen. Mi fu chiesto di prendere il suo posto in un lavoro complesso e pericoloso di collegamento con elementi partigiani spesso provenienti anche da regioni partigiane fuori di Milano. Poco prima del Capodanno, Ferruccio Parri ritornò a Milano dal suo storico viaggio al sud, dove con altri dirigenti dei vari partiti ottenne formalmente il riconoscimento del CLN Alta Italia dalle autorità militari alleate. Al suo rientro a Milano bisogna provvedere un rifugio provvisorio per lui e la signora Esther. I dirigenti del partito d'azione mi chiesero di domandare alla padrona di casa dove alloggiavo di mettere una camera da letto a loro disposizione. E avvenne così che i coniugi Parri, sotto il presunto nome di professore e signora Pasolini, furono alloggiati nello stesso mio appartamento. Due piani di sopra alloggiava Cattone, incaricato da Parri con il programma a violanci per le unità partigiane nelle varie zone di combattimento. Con un incarico di collegamento mi ricai da lui la sera del 2 gennaio 45 senza sapere che egli era stato catturato poco prima da agenti del servizio segreto della Gestapo. Così fui catturato anch'io. Per una susseguente serie di fortuite circostanze, incluso una telefonata che indusse l'innocente comparsa da Cattone della mia padrona di casa, dove i Parri erano ormai tranquillamente insediati, furono catturati anche loro e portati su all'appartamento dove i nazisti avevano già nelle loro mani Cattone e me. Potete bene immaginare l'angoscia che provai vedendo Parri e sua moglie comparire con espressioni preoccupate ma tranquille, passando proprio davanti a me che stavo sequestrato su una sedia sotto sorveglianza di un agente SS. Ci guardammo furtivamente non volendo che i poliziotti si accorgessero che ci conoscerevamo, ma vidi in Maurizio uno sguardo di grande commiserazione quando mi passò davanti. Mi sentivo totalmente distrutto vedendo il leggendario capo della Resistenza in questa situazione. Era come se il mondo intero stesse per schiacciarmi addosso. A questo punto i poliziotti della Gestapo non avevano la minima idea di chi veramente fosse la coppia Pasolini. Negli interrogatori io dichiarai che non avevano niente a che fare con le mie attività o con la resistenza. Ci credettero e così rimase per tre giorni e stavano per scaccerarlo quando infortunamente Maurizio fu riconosciuto a San Vittore da un poliziotto italiano che lo aveva arrestato tre anni prima. A quel punto io non avendo cooperato con la Gestapo ero già avviato al campo di storminio di Mauthausen in Austria. Senonché riuscì con l'aiuto di un compagno chiamato Alberto a farmi una via d'uscita dal vagone bestiame parte di una tradotta di 500 prigionieri di l'età Mauthausen. Ferruccio Parri rimase in cattività per due mesi. Gli alleati richiesero dai tedeschi che lo mettessero in libertà come precondizione per negoziare la resa delle loro forze in Italia. Nominato presidente del Consiglio nel giugno 45 mi nominò a detto stampa nella sua segreteria. Per tutti questi anni di vita in America sono rimasto un appassionato lettore di libri sulla resistenza, e specialmente su Ferruccio Parri, tenace oppositore del fascismo, uomo di pensiero, di convinzioni vissute fino a fondo, combattente capo partigiano, presidente del Consiglio in un periodo di immense difficoltà.